E' stata la splendida cornice della piazza medioevale del castello di Casa Castalda, la location di presentazione del libro L'Antica Strada del Sale di Carlo Enrico Paciaroni, edito dall'Associazione Voglia di Fare in collaborazione con la Pro Casa Castalda. Il saggio è una guida storico-turistica della strada, detta anche salaria o strada fabrianese, un itinerario culturale che parte da Perugia e giunge ad Ancona e si snoda lungo e a fianco delle statali tra 18 e 76. La pubblicazione, con un deciso carattere divulgativo, descrive la straordinaria varietà di paesaggi e il vastissimo patrimonio culturale che il lettore incontri in questa strada, che si può percorrere a piedi per la quasi totalità in bicicletta, su strade comunali e vicinali o anche in auto. Ha moderato l'incontro il giornalista Domenico Coletti, mentre tre relatori erano presenti, Euro Puletti, docente e studioso del territorio, Leonardo Barasano, docente presso l'Università di Perugia, ma anche Enrico Bacoccoli, sindaco del Comune di Valfabrica, Lorena Caneschi, assessore alla cultura del Comune di Valfabrica e poi ovviamente l'autore del volume Carlo Enrico Paciaroni, il presidente uscente della Pro Casa Castalda, Maurizio Rossi, che ha ufficializzato anche il passaggio di consegne con Marco De Matteis e Luigi Pierini, presidente dell'associazione Voglia di Fare. L'idea di questo libro nasce quando abbiamo cominciato a ragionare con l'associazione Voglia di Fare con la Proloco di Casa Castalda, che c'era un territorio che andava riscoperto, cioè un territorio che si svolge da Perugia fino all'Appennino, dall'Appennino fino ad Ancona, che nei secoli è stato sempre un territorio attraversato dalla storia e da una serie di personaggi, di popoli, anche dal punto di vista sotto l'aspetto economico, sotto l'aspetto militare, che ha lasciato dei segni che non tutti conoscono. Anzi, siccome la strada è una strada abbastanza veloce, anche quella che c'era prima, cioè la statale, il 138, oggi c'è le 4 così, la gente magari ha corso verso il mare ma non si è mai soffermata in un paesino che potrebbe essere, non so, Pieve di Compresseto, che potrebbe essere Fossato di Vico, Sigillo, oppure Passando l'Appennino, Sassoferrato, Genga, Serra Sanquirico, che sono dei gioielli, sono dei castelli che nascondono dei grandi tesori. Il libro che cosa è stato? Il racconto storico di come questi paesi sono sorti e che cosa hanno fatto e hanno rappresentato nella storia, con un compendio finale che è anche una guida, una guida che costringe il viaggiatore che vuole soffermarsi a scoprire delle realtà monumentali e architettoniche che non immaginava di poter trovare. Questo libro è un tassello per quanto riguarda il progetto della riscoperta dell'antica strada del sale Perugia-Ancona, è uno dei tasselli che stiamo percorrendo. Abbiamo incominciato anni fa tutte le associazioni proloco, associazioni del territorio che vanno da Perugia fino a Scheggia-Pasce-Lupo, abbiamo incominciato, ci siamo incontrati anni fa, abbiamo fatto un patto di intesa, abbiamo deciso di riscoprire questa strada del sale, l'antica strada del sale, da Perugia ad Ancona. Abbiamo avuto un incontro anche con l'assessorato al turismo della regione, il progetto gli piace, adesso dovremo sviluppare la sentieristica perché comunque è un itinerario storico-culturale, lo fate o in macchina andando a vedere le varie cose che sono nel libro, le varie peculiarità le trovate nel libro se volete visitarle, le potete fare in macchina comodamente o le potete fare in bici o a piedi sulla sentieristica che attueremo in futuro. Questa associazione è nata con l'intento di promuovere il nostro territorio, promuovere le nostre località, promuovere il nostro paese, il nostro castello che purtroppo da una parte è poco visibile dalla strada principale, il nostro castello purtroppo è rimasto in mezzo a delle nuove costruzioni e di conseguenza sembra che non esiste, però in realtà esiste, è conservato un castello di origini medievali, è pieno di storia, è una storia certa e anche ben documentata.